In un tempo non tanto lontano, in un luogo d'incanto, 27.000 anime che giocano, 27.000 anime che lavorano, 27.000 anime che si amano e una che scodinzola. Italo, questo è il nome che gli avevano dato, partecipava a tutte le funzioni, anche ai funerali, tutti i giorni puntuali all'uscita di scuola, ma non tutti erano dalla sua parte. Sia per la storia del cane avete chiamato in 300, dateci il tempo di lavorare. No, no, io sono l'insegnante di suo figlio. Ora se permette la devo proprio salutare, signora? Laura. Signora Laura. Se lei è un secondo, io dovrei avere una penna, così se lo scrive e la prossima volta non se lo dimenti. Quella barbara tragedia che è stata il randaggismo nella nostra città, loro sono i responsabili. Diciamo no al sindaco Blanco e ai suoi compari. Hanno chiamato il comune per dire che c'era un randaggio. Ma non ho fatto di male a nessuno. Tu non ti preoccupare, il cane lo facciamo sparire. Ho deciso di candidarmi al sindaco. Eh? O cane. Comunque l'ho capito che qua voi siete tutti di un pezzo, eh? Poi c'è in più il fatto che siete maschi e che non giova mai alla conversazione. Che cosa ti avevo detto? Me la volevano ammazzare. Mamma me l'avrebbe fatto tenere. Marco Bocci, Elena Radonjic, Barbara Tabita. Italo, da gennaio al cinema. Oggi si parla di X-Men Apocalypse, che finalmente ha trovato il suo villain. Sarà Oscar Isaac a interpretare Apocalisse nel prossimo episodio della saga. Lo abbiamo visto barbuto in A proposito di Davis, e ne i due volti di gennaio, e lo vedremo in Star Wars Episodio 7. Il prossimo episodio di X-Men, prodotto dalla 20th Century Fox, verrà girato a Montreal, in Canada, a partire dal prossimo aprile, e arriverà sui grandi schermi solo il 26 maggio 2016. Dobbiamo aspettare. Per oggi è tutto, vi aspetto al prossimo video. Ciao! Ciao!